E' nel cortile di questo stabile in via De Santis una travessa parallela al corso di Baiano che gli operatori del 118 ieri sera, intorno alle 22.30, hanno soccorso Felicio Elipiello. Il 54enne, raccasciato sul pavimento in una pozza di sangue, presentava una profonda ferita d'arma da taglio alla gamba sinistra. Allertati dai sanitari, sono giunti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Baiano ed è nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 54enne è deceduto per arresto cardiocicolatorio sull'ambulanza diretta all'ospedale di Nola. Felicio Elipiello, secondo quanto accertato dagli investigatori, non era collegato con ambienti della criminalità organizzata. I carabinieri in queste ore stanno ascoltando alcuni conoscenti della vittima e hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per tentare di definire la dinamica dell'accaduto. Una ricostruzione dei fatti che almeno per ora presenta ancora dei lati oscuri, così come resta da chiarire il movente dell'aggressione. Elipiello, secondo quanto riferito dai vicini, pare non risultasse domiciliato nello sambile di Via De Santis dove si è verificato il grave fatto di sangue, ma spesso si recava in questo condominio dove invece abita il fratello che al momento dell'aggressione pare non fosse in casa. Ad allertare il 118 sarebbe stata la compagna della vittima. Anche questa è una circostanza da verificare, visto che gli investigatori preferiscono tenere blindate le indagini che non escludono al momento alcuna pista. Anche questa è una circostanza da verificare. Grazie. Grazie.